Monique Jacot per due anni indaga nella vita di 24 famiglie contadine svizzere per catturare l'esistenza delle donne della terra. Ne escono ritratti indissolubilmente legati ai ricordi della sua infanzia, ai suoi occhi di quando bambina frequentava le case degli zii del Jura svizzero. Immagini semplici e al tempo stesso forti di chi è ancora in grado di guardare il mondo con incanto. Verres nelle sale del castello.